La memoria è un ritorno di Peleriali alla sua città adottiva e quindi è come se fosse presente perché nel 2008 gli avete dato la cittadinanza onoraria e devo dire noi siamo ancora emozionati di questa cosa anche perché Mirandola sembra proprio non averlo dimenticato, sono cinque anni che lui è andato in una residenza diversa ma non l'avete dimenticato e quindi me lo fate vivere continuamente rendendolo quasi parte di voi, parte della vostra città.